andiamo a montare il supporto binario apriamo la scatola dei microfoni e montiamo i supporti dei singoli microfoni ogni marca e modello di microfono avrà il suo montiamo il primo e il secondo andiamo inserire i nostri microfoni nei supporti per il momento non ci interessa la distanza e l'angolazione fra i due microfoni prendiamo un cavo microfonico xlr tre poli inseriamo la parte maschile nella scada audio nel primo ingresso l'altro lato del cavo andrà nel microfono che vedete alla vostra destra che però sarà il microfono sinistro perché dobbiamo pensare l'ascoltatore secondo ingresso e microfono destro per l'ascoltatore la tecnica stereofonica che utilizziamo è la or tf che prevede una distanza tra le capsule microfoniche di 17 centimetri e un'angolazione dei microfoni di 110 gradi in questo caso però ha ridotto l'angolazione a 90 gradi andiamo a dare alimentazione phantom ai primi due ingressi della scheda audio e aumentiamo il preamplificatore microfonico fatto questo passiamo a riper armiamo le tracce armiamo la prima e la seconda traccia e facciamo partire la registrazione